Nuovo episodio della vita in città, preparatevi perché ci sono delle novità incredibili, incredibilissime che stanno per arrivare in questa nuova serie e quest'oggi iniziamo a farvi venire un po' di curiosità, un po' di voglia di scoprire cosa comparirà nel prossimo episodio ma potete scoprirla cercando di indovinare nei commenti perché secondo me si capisce facilmente infatti è comparsa una certa galleria che, come potete vedere, ha una strada dove non si vede cosa c'è però potete provare a indovinare Chissà dove porta, secondo voi dove porterà questa strada? Chissà Stef, chissà Nuove avventure arrivano, preparatevi perché sarà qualcosa di incredibile in ogni caso quest'oggi abbiamo fatto tantissime cose, dato che teoricamente nello scorso episodio abbiamo pagato a Mark per la casa e finalmente dovrebbe essere pronta, quindi quest'oggi facciamo il tour della nostra nuova casa un momento super mega importante della serie Fere, quindi io ti voglio abbastanza carica, dimmi Stef, devo dirti una cosa, girati un attimo, fai un giro su te stesso Sì Che cos'è quello secondo te? Dillo tu È un furgoncino della polizia Fere Appunto Stef, secondo te perché è arrivata la polizia in città? Guarda, me lo sono domandato anche io Eh, chissà La mia teoria è che il sindaco fa qualcosa di illecito nel villaggio La mia teoria è che stanno iniziando a scoprire che tu sei un truffatore Stef No E che hai rubato da tutti E che stai facendo un sacco di malefatte Quindi Stef, stai attento Secondo me devi iniziare a guardarti le spalle Magari stanno già indagando su di te Fere, le mie spalle sono ben coperte e devi stare tranquilla Finirai in prigione ragazzi, io ve lo dico Polizia, io sono inocente Potete fare tutti i controlli che volete Ma lo vedi che qui non c'è nessuno Perché stanno controllando in giro Stef Fai attenzione Capisco, capisco Inizio a intravedere la nostra casa e sono super mega curioso Quindi Fere, vediamo di muoverci Sono troppo curioso Corri, corri Allora, da qui Stef Sembra esageratamente enorme Io sinceramente nella descrizione di Mark Me la immaginavo un po' più piccola Ok Guarda Stef Alla tua destra Sì, vabbè Fere È normale, stanno controllando tutta la città Prigione Non accadrà nulla di simile Fere Forza, forza Andiamo a vedere la nostra casa E facciamo finta che non stia succedendo nulla Bello il pavimento Che bello Bello Il pavimento mi piace un botto Mi piace, sai cosa? Che la casa comunque ha dei blocchi abbastanza classici Ma il pavimento sembra molto moderno E quindi mi piace questo contrasto È vero È vero Poi si sale di sopra Facendo così E abbiamo tutta questa bella stanza grande grande Gigantesca Qui ci possiamo fare un sacco di cose Dobbiamo decidere come dividere tutte le zone E poi guarda che panorama a 360 gradi Fere Sì, bellissimo Con questi vetri così giganti È davvero fantastica Una figata incredibile Poi si sale ancora più su E abbiamo una sorta di zona Non lo so Questa è una torre di vedetta Fere Non tanto torre di vedetta Mi sembra un terrazzino A me sembra un buon posto Per controllare la polizia E capire che parte stanno controllando Però non ne ho bisogno Perché sono innocente Quindi a qualcun altro potrebbe servire Per fare qualcosa di simile Ma non a Steph No, secondo me questo è un bel posto Dove startene a rilassarti A prendere il sole e così via Qua potremmo fare una camera da letto Magari anche con una zona solotto Con un televisore Semmai avremo un televisore Però è giusto studiare qui Fai la cucina Un sacco di cose Voglio dire ti saluto una cosa Nel prossimo episodio potremo avere un televisore Non aggiungo altro Dici che la strada Quella strada così moderna Io consiglio di aspettare Con tanta impazienza Il prossimo episodio Poi ognuno ha fatto quello che vuole Dici che quindi quella strada Porterà qualcosa di bello Eh già Comunque questa casa Mi piace tantissimo Ma abbiamo bisogno di arredarla E certo E non voglio arredarla Con le cose classiche Però aspetta un attimino Che qui Come sempre Questa la vendiamo cara Quindi Dobbiamo raccoglierla Ogni volta che ricresce Non è caduta in acqua No, perfetto Hai notato che finalmente Fere gli animali Non compaiono più? Ho notato Probabilmente si sono spostati Non sai com'è Ho avvocato un potere Che potere? Questa No, Steph! Eh, Fere Ma sei un maledetto Io pensavo si fossero tipo spostati Sei come i pascoli Dopo un po' si spostano E vanno in altre zone Abbiamo almeno Cinque stacchi di carne Sei una persona terribile Sì lo so Sei davvero una Ah, Steph Altre novità Vieni A proposito Io che ero ancora convinta Che saremmo stati invasi dalle mucche Ho fatto una fioriera un po' alta E ho fatto quelle pareti Tutte così alte Per impedire alle mucche Di saltare dalle montagne Però Non ci ho pensato, Steph Comunque devo dire che Esteticamente è molto carina Però è carina Carina E qui possiamo mettere tutti i fiori Che raccogliamo Esatto Allora Quindi a questo punto Mi hai detto Allora io voglio mettere anche tutta la carne a cucinare Che così facciamo un po' di soldi Perché nel prossimo episodio ci serviranno Sto mettendo un po' troppa curiosità Sul prossimo episodio, vero? Penso che tutti non vedano l'ora che finisca questo Inizio il prossimo Arrivati a questo punto, Steph Allora Vieni a guardare la cesta Questa Teffo Sei un maledetto Poi non potevi davvero spostarle Tipo con il cibo Non c'è perdono Mandarle dall'altra parte Non c'è perdono Vabbè ci hanno mangiato tutti i fiori Che erano davvero tanti Mi hanno rovinato un sacco di cose Distrutto tutto quanto Le piantagioni Quante volte si sono mangiate le nostre piantagioni Tutti Però anche i maialini quelli Allora Quindi dobbiamo mettere un sacco di carne A cucinare Di conseguenza Facciamo così E ne mettiamo qua Poi ne possiamo mettere Guarda quanta carne pronta abbiamo Altra qua E poi teoricamente Noi ne avevamo comprato Il secchiello di lava Sì ce l'ho io Lo vuoi? Piazzano in una fornace Inizia a togliere i letti? Allora Sì inizia a togliere i letti Ok Uno e due Andiamo a metterli Ok perfetto Le cesti io forse ne creerei direttamente di nuove Senza star qui a prendere queste Ma sì Dai Quelle poi Man mano che finisci Tutta la nostra merce Le lasci vuote Tu ci metti altro Però dai sì Per non fare avanti indietro Tutte queste cose Allora la cosa che devo fare Devo mettere un attimo un po' di cose in vendita Quindi Assolutamente Devo fare un po' di lavoretti qua Vai 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 Allora mi ha chiesto Marci Di mettere in vendita le nostre stringhe Perché ha detto che gli servono per qualcosa Non ho capito bene per cosa Perfetto vabbè A noi va bene Cioè se ci parlano va tutto bene E dato che Sembra che gli servano parecchio Io le metto a cento Allora Ok Quindi sto vendendo le stringhe A cento sollini Perfetto Così se le vuole Se le deve prendere qua Poi questa è vuota E non abbiamo rimesso il micro Niente cosa vendevo qui E la carne qua 32 32 Tutta a posto Mentre questa 32 43 Cotta Posso metterne altre 44 Quindi chi vuole comprarsi carne qua C'è nell'abbondanza Qui invece non mi sembra che nessuno abbia comprato nulla Ok Da questa parte abbiamo la canna da zucchero Che ne mettiamo altra qui Ma nessuno la sta comprando Tanto che era urgente Ma non avevi detto che serviva a tutti infatti C'è lo scorso episodio Rifai ricerca la canna di zucchero Che c'è un sacco di richieste La vogliono tutti Nulla Nessuno Hai visto comunque Steph Che carine Le nostre stalle con le pecorelle colorate No ma le ho guardate Adesso in effetti vedo a vederle Sono troppo carine Ti tengo anche a dire una cosa Alla fine le abbiamo costantemente dovute colorare Perché E infatti siamo andati a prendere anche altri fiori Perché Perché praticamente alla fine E quando nasce il nuovo piccolino Non nasce del colore Quindi Però se sono colorate Rimangono colorate Esatto Come vi avevamo fatto vedere la scorsa volta Quindi rosse Quindi le devi diciamo Gialle Colorare una ciascuna Però poi almeno rimangono colorate Sì E' gran faticoso da gestire E' veramente faticoso E vabbè Però comunque l'ana è infinita colorata Esatto Alla fine sì Nel momento in cui ti organizzi Poi ti rimane per sempre Opla Ho messo tantissima pelle a vendere Stavo rischiando anche di fare un fail qua Perché come sempre Quando fai shift Fa fail giganteschi E forse era così Non mi ricordo più Però da ora in poi è così Non mi ricordo quanti erano qua raga Facciamo 23 23 Piace a tutti Ok Allora Ferri Dovevo anche passare ai negozi E vedere quanti soldi ha guadagnato La nostra cara Mega commessa Ok Che lavora Nel negozietto Da quello che so Ci siamo gestiti così con lei Io metto la fornitura di nuovi oggetti in vendita Ok Direttamente nella ceste E lei se ci sono guadagni Li mette nella ceste Come se fosse una sorta di cassa Beh giusto così E poi rischio ladri questa cosa Però per adesso sta funzionando Beh non penso ce ne siano in giro Non lo so Non lo so A parte quello che ci aveva derubato all'inizio Ti ricordi Però poi non abbiamo Allora 50 E 90 110 Giusto Sì non sto facendo failing Non chiedermi di fare calcoli Ti prego Steph 115 soldi ne ha fatto Quindi deve aver venduto un po' di cose Devo ricordarmi di mettere nella cesta Un altro po' di Semini Carotte Grano Mele Eccetera eccetera Perché altrimenti finiscono E poi quando vengono i clienti Non vendiamo più una ceppa Comunque è molto comodo Perché le lascio tutto lì Poi le rimette nelle teche E' decisamente un sistema comodo Perché altrimenti Per quello che abbiamo preso una commessa Steph è normale Ti dà una mano Assolutamente Serve proprio a quello Allora richiudiamo Qua tutto bello ordinato Bisogna fare No è più bello di casa di Merlino Sai perché? Perché c'è questo legno blu bellissimo È fantastico Lo so È strabello Lo so Non so cosa dire È davvero bellissimo Lo so Fatti farò anche io un negozio così bello Però Voglio anche io una casa tutta colorata Ah a proposito Devo vendere le mele a Merlino Esatto Non le avevi vendute la scorsa volta Merlino Sai che mi sa che sta ancora dormendo? Merlino Merlino Voglio dargli un pugno Merlino Svegliati Non puoi andare a distubarlo Svegliati Svegliati È qui Merlino Sei sveglio? La moglie si è svegliata Allora mi sembra che si sia appena alzato Steph è un po' addormentato Ti dico la verità Vedi che sta cercando Di sgranchirsi un po' le ossa Guardando fuori dalla finestra Tu quando ti svegli sei tutta addormentata Anche lui Eh appunto per quello Lo lasciamo in pace per ora Sì sì Ok dai andiamo via Ma mi sa che aspettiamo fuori dal negozio Sì Rimaniamo qui Non le vuole lei le mele d'oro Non ci abbiamo molta voglia di aspettare Stare andando a fare la spesa lei Steph No in realtà di solito va nel nostro negozio Gli piacciono un sacco gli animali Ah Però non l'abbiamo assoluta Carina E volevo controllare Quanto ora è in vendita il signor Marci? Vediamo un po' Ne abbiamo soldi da 20 Sì vediamo se riusciamo ad acquistarne vari 7 Ok 7 7 Oh yes E ci siamo fatti di nuovo 29 Però non servirebbe molto di più Ma ho finito i soldi in cambio Quindi Adesso Vendiamo a Merlino Che adesso è pronto a lavorare Dopodiché andiamo a cambiare un po' di soldi Continuiamo a comprare oro Continuiamo a fare altre mele Perché voglio un sacco di soldi Per il prossimo episodio Comunque in questo momento abbiamo più di 700 Che non è male Eh bello Bello Dai siamo messi bene Considerando che adesso vendo un botto di mele Eh sì proprio a lei che le piacciono un sacco Ma quanto arriviamo adesso? Allora 100 200 Poi 300 400 500 500 E 600 Quindi Fede In questo momento Abbiamo 1300 dollari 5 da 20 Quindi due volte Quindi così ne ho 10 da 20 E direi che sono a posto Però li tengo di attento in tasca Dato che dobbiamo fare un po' di shopping Io cosa cambio? Come sempre un po' di investimenti Perché alla fine In questo modo Noi poi vendiamo le mele Facciamo un sacco di soldi in più Ed è tutto decisamente una figata Comunque guardate com'è bello Il villaggio senza troppi animali Sono stato proprio bravo a ripulire tutto Stefo Dai zitto Lo dicono tutti Verrai arrestato che per questo motivo Potevi tranquillamente farli spostare Cioè dirgli andate da un'altra parte Perché il mondo è bello E non dovete stare solo qui Attaccati a noi Ferri ci hai provato tante volte Non ha funzionato Hanno mangiato i nostri fiori Ora sono Ho cambiato un po' di soldi anche io Ma le mele le hai prese per trasformare le mele d'oro? No ho sbagliato Eh vabbè ragazzo Sogliamarci Accidenti Vabbè Viene devi tanti Stef Quindi stai zitto Guarda Ormai gli ho ripagato tutto eh Ormai ho ripagato tutto Non ti voglio più sentire Ferri oggi diventiamo ricchi Siamo ricchi Quanto hai adesso? 1800 Eh bello Un sacco di soldi Siamo ricchi Siamo Fa il ballato della ricchezza Il ballato della ricchezza Stef Siamo andati a mettere i letti Sì gli ho messi io Gli ho messi un po' a caso ovviamente Stef Ok Ferri Io un pochino di cose le ho portate Ad esempio Ho portato Guarda Come quello del negozio però Eh vabbè Questo Eh vabbè ci sta Anche se poi non sono sicura Di tenere i letti in questa In questa zona qui eh Cioè bisogna decidere bene Eh vabbè però Per adesso Perché potenzialmente Questa stanza è enorme Dobbiamo gestircela bene Vabbè poi ci pensiamo Però iniziamo a posizionare qualcosa Dai Allora poi Possiamo fare Una bella crafting table Che magari possiamo andare A piazzare In uno di questi spazi Così che siamo fatti apposta Per noi Poi aspetta che voglio ripositare Anche i soldi Sono pieni di cose Cosa vorresti fare Tu cosa vorresti aggiungere Eh tante cose Ma non ce le abbiamo Stef Io voglio il televisore Lo so che Non so con il tempo Stai pensando solo a quello Poi vorrei un bell'armadio Vorrei dei comodini Vorrei tipo le librerie Guarda Se dobbiamo parlare di qualcosa Di abbastanza semplice Le librerie Per arredare Una camera da letto Sono perfette Doviamo andare a spendere soldi Quindi Beh O te le crei le cose Ma Sì Andiamo a spendere soldi Farci 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 Banconote da venti Anche lui Beh vi sto odiando Ho già finito le banconote da venti Ne posso comprare soltanto quattro Io ne ho Ne vuoi? Eh sì Ne ho una Tini Ah giusto Perché posso pagarlo Chi me l'ha rubata? Io Fulvio? No Ok meno male Stef Hai notato che Fulvio È di quelli che tiene Le decorazioni di Natale Fino a maggio Noi nella vita reale siamo così Quindi non posso criticare Ti vogliamo bene Fulvio Tienile tutto l'anno Natale tutto l'anno Sì Ciao Lina Buona giornata Ciao anche a te Giulie Quando vuoi comprare qualcosa Giulie non ti rivolge più la parola Secondo me Anche secondo me Allora andiamo di qui Maggiamo così E Vediamo un pochettino Cosa dobbiamo fare Ah sì Dove le piaceresti? Tieni Vediamo un po' Allora Beh sicuramente O sopra Non lo so Perché non ho ancora deciso Come fare tutto Secondo me Sarebbe bello Poi Forse avere i letti Più da questa parte Però io le vorrei comunque Piazzare attorno Tipo così Vedi Ok Magari fare anche È che se la rompo Poi si distrugge Perché sarebbe bello Fare anche tipo un arco Tipo così Capito? Eh anch'io lo stavo pensando Lo sai? E li ho finite E ne manca uno Sì Però non è carino così Sì Carino Poi magari ci metti Delle torce attorno Migliori ancora la zona Lo so Stai più volendo altri soldi Ma dovrei andare a cambiarli Mi sa che ora è chiuso tutto Buonanotte A caso Giusto per rimanere Però ci stai Vedi non ti fanno sbattere la testa Le libri È perfetto Sono carine Sono carine Comunque Consolini Ci fermiamo così Tanto utilizzeremo I nostri 1700 dollari Ben guadagnati Che ci siamo fatti Piano piano Col tempo Per Far shopping Nel prossimo episodio Vediamo un pochettino come Non vi spoileriamo nulla Quindi sarà un episodio Veramente incredibile Dove andremo In una nuova zona Della vita in città Qui sotto Se non vi preoccupate Di altri video Iscrivetevi al canale Campellina E ci vediamo Nel prossimo video Ciao 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 ciao